E' stata una missione carica di sensibilità e di amore che sono secondo me i valori importanti per conoscere e per vivere l'Africa e poi soprattutto queste cose non vanno tralasciate anche quando si incrociano questi sguardi di questi bambini che ti invitano comunque a continuare è una gioia penso per tutti. Quando io parlo del Consolato non mi riferisco soltanto al Consolato ma mi riferisco a tutti coloro, anche oggi è una sinergia con il Comune di Napoli, abbiamo incontrato anche il Sindaco Manfredi al quale abbiamo rospettato di questa cooperazione e che vogliamo continuare a portare avanti perché io prima comunque di essere Consolato del Benin sono cittadino napoletano e io credo che queste cose sono molto importanti perché sono delle problematiche che sembrano lontane ma in realtà sono molto vicine. A Palazzo San Giacomo oggi sono state illustrate le attività di cooperazione allo sviluppo realizzate per la popolazione della Repubblica del Benin nel corso dell'ultima missione istituzionale che si è svolta dal 27 marzo al 9 aprile. significativi i risultati raggiunti dalla delegazione che era composta anche da un'equip medica che ha operato a supporto dei colleghi africani. Il Consolato del Benin è sempre molto attento al sociale soprattutto nel creare il collegamento con Napoli a questo Stato africano che ha veramente bisogno di essere aiutato. Io personalmente ci sono stato nel 2004, è stata un'attività di volontariato che ho vissuto per oltre un mese, ho lavorato intensamente in un ospedale proprio della Croix a Zimbier e ho potuto sperimentare cosa significa portare solidarietà da Napoli che è una città di un cuore immenso in paesi dove veramente c'è bisogno di tutto. Un bilancio significativo di un'azione che è stata portata in Africa da tanti napoletani che si impegnano quotidianamente per dare una mano alle persone che hanno di meno degli altri, che hanno meno diritti, soprattutto persone malate, bambini, quindi una grandissima missione umanitaria che fa lustro e dà onore alla città, ma anche un'occasione importante per rafforzare i legami con l'Africa. Napoli è una grande città che è ponte naturale tra l'Europa e l'Africa e quindi questa iniziativa è proprio nello spirito della nostra città.